Una maglietta bianca con il cuore rosa. L'hanno indossata tutti insieme nell'aula di Palazzo Lascaris i consiglieri regionali del Piemonte che, anche con una donazione personale, hanno lanciato la campagna Life is Pink per la prevenzione dei tumori femminili in collaborazione con la Fondazione per la ricerca di Candiolo. Un'iniziativa che conferma l'attenzione del Consiglio regionale del Piemonte verso la tutela della salute, che richiama l'attenzione verso l'importanza dello screening anche in questo periodo di crisi pandemica e che i consiglieri regionali hanno valorizzato, aggiungendo il titolo Life is Pink, hashtag sostieni Candiolo, nella loro immagine sul profilo Facebook. C'è necessità che in Piemonte si attivi maggiormente la prevenzione dello screening corporeo delle malattie, in modo tale che ci sia anche poi successivamente un miglioramento della vita e della qualità. Per parlare anche in periodo Covid, far capire ai cittadini che la prevenzione non si deve fermare. L'Ottobre Rosa è un inizio per noi di promozione. Prossimamente, nel prossimo mese, toccherà ad altri screening, come può essere il contrasto al tumore alla prostata e poi successivamente a tanti altri screening corporei che il sistema sanitario piemontese mette a disposizione per tutti i cittadini. Quest'anno, causa Covid, è diminuita la prevenzione. La chiusura di alcune strutture ha portato la riduzione degli screening ed è sceso sensibilmente anche il numero degli interventi per tumori della mammella, passati da 2176 a 1821 nei primi sei mesi dell'anno. La campagna Life is Pink diventa quindi una nuova occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche un mezzo per raccogliere fondi per la ricerca. La Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro vive e progredisce grazie alla generosità di privati, associazioni, imprese e istituzioni. Per questo motivo l'adesione da parte del Consiglio regionale del Piemonte alla nostra campagna Life is Pink è un stimolo a fare sempre meglio e assume un valore significativo soprattutto in questi giorni. La campagna Life is Pink è giunta alla sua terza edizione e nel corso di questi anni ha permesso di raccogliere importanti fondi da destinare all'acquisto di macchinari di ultima generazione, a realizzare visite oncologiche contro il tumore alla mammella e siamo convinti che anche questa edizione possa mettere a disposizione dei nostri sostenitori, dei nostri pazienti, importanti risorse per curare sempre più persone e farlo sempre meglio.